Mi piacerebbe sapere se sei attivo oppure passivo. Intendo che l'essere umano di oggi è settato su una modalità di ricezione passiva, a differenza del stato ideale per l'essere umano che sarebbe quello di trasmissione antica. Basta guardarti in giro per vedere come l'uomo è pigro, rimandatario, rinunciatario, completamente impantanato in questa valide sociale rappresentata dalla televisione e dai social network, dalla falsità che dilaga, dai falsi rapporti. In questo stato di cose noi non produciamo più, non creiamo più. Non creando più andiamo a vivere in un mondo che non è il nostro. E quando queste sono le condizioni è normale sviluppare stati depressivi. Ma chi me lo fa fare? Tanto poi andrà sempre così. E non trovo l'amore. E il lavoro non c'è. E che palle. Allora comincia da te. Comincia a fare chiarezza su di te. Comincia a dirmi che cosa vuoi. Quando ti chiedo che cosa vuoi, probabilmente le prime dieci o undici risposte sono qualcosa che tu devi volere. O meglio che la società ti ha imposto di volere. Poi dalla dodicesima o tredicesima risposta magari inizi a uscire tu. Piano piano, timoroso. Ma sei tu. E la cosa stupenda è che quando crei il tuo mondo, attraverso la forza dell'intenzione, tutto attorno a te inizia a conformarsi alla tua anima. E allora ti piace vivere in quel mondo, in quel modo e alle tue condizioni. Ovviamente sono tanti i motivi per cui l'uomo di oggi non riesce a crearsi il suo mondo. La chiarezza negli intenti è una di queste, ma anche il fatto che siamo energeticamente scarici. In altri video già ne ho parlato, probabilmente ne riparlerò, quindi non mi soffermo su questo punto. Quello che voglio consigliare soprattutto alle persone che stanno passando un periodo destabilizzante, a livello energetico, sono oziose, rinunciatari, depresse, vivono al motto di... Iniziate a muovervi. Se è vero che tutto ha energia, allora il movimento genera energia. Non deve essere un movimento finalizzato a... Muoviti! Alzati dal divano, metti il trucco e vatti a prendere un caffè al bar. Ma io non prendo il caffè! Vatti a bere il tè, muoviti, muoviti. Il movimento crea energia e l'energia che metti in moto riesce ad equilibrare le situazioni circostanti. Ovviamente siamo ancora lontani da raggiungere il proprio fine, ma che importa? L'importante è iniziare. Hai notato anche come quando stai a casa per 3 o 4 giorni e non hai voglia di fare niente, pure la pelle inizia a rispondere male. I poli si diratano, la pelle si grassa. Sono tutte condizioni dettate da un ristagno energetico. Spegni subito questo video, non mi fai nemmeno continuare. Mettiti le scarpe esci. Ciao! Mettiti le scarpe esci. 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 Mettiti le scarpe esci.